salve a tutti ragazzi e ben arrivati sul mio canale oggi ci troviamo a vedere il quarto episodio di seasons after fall dovremmo se non ricordo male entrare in una grotta adesso non ricordo ok l'ho schiacciato ah ok adesso non ricordo dove si trovi l'entrata noi facciamo un pochettino di strada vediamo un po no allora di qua non si passa sì il rumore dell'insetto lo sento anch'io andiamo a vedere sotto ok no ok saltiamo sul nostro bel funghetto poi il pozzo mettiamo inverno ok benissimo grazie non pa ah no non si sono ah sì ok pensavo che non si aprissero più allora no di qua da dove sono arrivato wow bellissima è scato dietro devo cadere giù sotto sì ok questo serviranno qualcosa no ok ok amabili funghetti venite qua no 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 è praticamente impossibile arrivare lassù con questo funghetto ah qua c'è qualcosa ok vediamo di superarlo oddio oddio ma dai abbiamo creato un altro funghetto un mitico wow 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 ok abbiamo anche i funghetti magici però meglio passare da sopra vediamo se ci arrivo no riuscirò a saltare sì sì ok 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 non ho idea di cosa debba fare ora ci sono arrivati per il puro caso ci sono arrivati per il puro caso qui c'è il nostro animaletto vediamo un po' di bel metro di giorno ciao piccolino no ah ecco te da vai prima che fa è ora No, direi di no. Non si alza. No, direi di no, no, fermo, no. Ok, non so cosa fare. Proviamo a buttarci qua sotto, vediamo un po'. Non mi dire che è la stessa cosa di prima. Ah, potevo stare ora a impazzire. Ok, continuiamo la nostra avventura nel bosco. Ok, queste radici sono inquietanti. Bellissimo anche come cambiano i suoni dell'ambiente. No, devo rimettere l'inverno perché non riesco a saltare. Ma di nuovo devo saltare giù di nuovo? No, non ci credo. No, ok. Credo che siamo arrivati in fondo, anche perché se continuavamo a scendere arrivavamo all'inferno. Allora, funghetto mio. Dimmi un po' a cosa serve. Sulle radici non si può saltare. Ok. Ah, ne ho noto già un'altra. Esplodi? No. Va bene. Di qua dove sono arrivati, è qui un vivo. Allora, sopra non c'è niente, se salto giù sono nuovo al punto da capo. Ah, qui forse devo farlo vivere. Forse devo farlo arrivare fin qua. Ah, ho capito. Ok. Ok. Facciamo scendere. Trasforniamo in nuovo. Il diverno. In modo che non possa cadere nell'acqua. E andiamo. No, scusa. Ok. E un funghetto lo abbiamo. Questo funghetto magico che cresce, grandioso. No, più a destra, grazie. Eh, un pochettino più a destra. Grazie. Allora. Un bel saltino. Ok. Brava coltina. Oddio, cos'è? Mi fugge? Mathena, mi vuoi far male? No, meno male. Ok. Mi viene solo a far compagnia. Ah se no non c'è una... Noi dai, tu è carino, entra, brava, no, entra, entra, ok, ma anche solo tu, vediamo che succede, come faccio a farti entrare pure a te? Bravissimo, tutta questa fatica sono uscite fuori, va bene andiamo avanti, non si può andare avanti, poi andiamo indietro, non si può andare indietro, ok, ah ok, sono rappresentate su questa pietra, le dice, ok, vediamo un po', pratica, le devo spostare, le devo mettere in posizione, così potrebbe anche andare abbastanza bene, dai entrate, su, bravissimo, adesso vieni qua, ok, si se l'ha aperto qualcosa o no? Si, ok, ah, non mi cadere giù, vai, bravissimo, ma sono davvero prima? Nooo! Allora, figliettino. Quindi li devo metterli in questa posizione qui in modo da aprirmi questo passaggio. Ok. Tu. Brava. Ok. Ok. Apriti sesamo. Eh non siamo. Si. Ok. Ah le pucciose qui mi seguono pure. Ok. Molto bene ragazzi. Credo che è meglio chiudere qui per questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Se è così lasciate un commento, un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.